Ehi! Ciao a tutte le patate sospettose che stanno guardando questo video Oggi insieme a me c'è Lilletta L'aiuto ad essere una persona favolosa e tipo devo fare una statua È troppo simpatica e carina Ha un canale e vi lascio il link qui in descrizione qui sotto da qualche parte Siamo qui oggi per fare un video, una sorta di video challenge strano Dove proviamo a mangiare questo Già sei sopravvissuta al curry che ho fatto questa sera Quindi questa è un'altra challenge Abbiamo queste caramelline gommose tipo tutti i gusti più di uno di Harry Potter Però prese da Tiger e sono a tema Halloween Io ho sinceramente paura, ho molta paura Anche io Iniziamo con il rosso Rosso abbiamo o ciliegia o chili Lo apriamo Aprire a tuo rischio è pericolo Apri tu apri tu apri tu apri tu apri tu Yeah Non sono due Sono confetti tipo che è? Eh sono tipo proprio le vince Prego cara Allora Pesca Quindi abbiamo Il rosso Cominciamo una rossa testa Si ne prendiamo una testa e vediamo chi è la fortunata Allora Rossa Ok al tre Uno Due Due Tre Fragola Oh Si sembracca Buona Fragola Anche tu la fragola Si Cherry Anche io Ciliegia No no c'è ciliegia Ciliegia Vabbè Uno pari Ok Win Questa è buona Buona Vengono qua veri Abbiamo quella viola Che può essere o la mola Oppure la cipolla Eh questa è rischiosa Vabbè Dove sono le viola? Le viola non ci sono Qua Questa sarà viola? Si Questa è viola Pronti? Uno Due Tre Tre No No che schifo Oh buona È blueberry Qua c'è il sacchetto del vomito Cipolla Ok Cipolla È terrificante Immagino Quindi siamo Due Uno Ah Devo bene Ok C'è questo azzurro morto Si Abbiamo blueberry O pepper Eh cipolla One Ho paura One Two Three No che tu Oddio è terribile Fatality No No Ti inganna Perché quando ciucci la superficie Sembra normale Sembra normale No No Ok No Esperimento No Allora Vaniglia o zenzero Allora a me lo zenzero piace Infatti Qua non sembra una O bene o bene E' quello tuo o quello E qual è quindi il perso? Cioè vaniglia è il buono Se facci il zenzero è perso Che forse è molto forte Uno Due Tre Prego vaniglia 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 E' fortissimo sto zenzero Buono Buono Mi si è liberato un setto nasale però Avevo un naso un po' intasato Adesso fino al cervello ho un condotto unico di liberazione Buona Oddio è rimasta quella color cacca Questa mi inquieta tutte Abbiamo o molto bene o Finiamo il video qui Porca vacca coca cola O uovo marcio No Allora adesso siamo due pari Quindi o vinciamo tutte e due O perdiamo tutte O muoio qua sul pavimento con l'uovo marcio in gola Ok Questo non ha un bell'aspetto quindi provo per le ultime parole famose Oddio è stato un piacere conoscerti E' stata una bella look Il primo giorno già per me è finita così Se questo è l'uovo marcio Uno Due Tre Coca cola Coca cola Ok E ora dobbiamo fare un'altra mancia Non vuoi provare l'ebbrezza di provare di nuovo la coca cola O l'uovo marcio è l'unico E dai giusto è vero riproviamo questo qua marrone Più letale Ultimo Questo va bene Abbiamo vinto tutte e due Fine Oh mamma ho paura Uno Ma sai c'è ancora la coca cola Prima che la coca cola maschera in uovo marcio eh Non sia mai Bene Due Tre Coca cola Coca cola Sì Ci ho fatto un po' Bene Direi che abbiamo vinto Ok Tutte e due Yeah Abbiamo battuto Secondo me non hanno messo l'uovo marcio Non ho assaggiato l'uovo marcio Non ho assaggiato l'uovo marcio Però Ti assicuro Che La cipolla E' Terribile Il ginger Va bene ok ma Porca vacca Vabbè Tutto sommato Lo fa veramente schifo Siamo sopravvissute Possiamo dirvi Danny Sopravvissute Namaste Spero che questo video vi sia piaciuto Un po' diverso dal solito Un po' leggero E con un ospite E spero che ti sia divertito anche te Sì Moltissimo Provatele anche voi a casa se volete passare una serata e perdere qualche amico Gli ho preso una di queste caramelline tieni amico mio E così avete spoltito la vostra rubrica Facendo morire i vostri amici con l'uovo marcio e il piperoncino Perché loro pensano di mangiare la carne e la coca cola Ed è l'uovo marcio Giusto e se lo avete preso e avete assaggiato l'uovo marcio Diteci Eh infatti Siete ancora vivi soprattutto Io non ci tengo a provarle ad assaggiare l'uovo marcio Che meno io Abbiamo anche gli ospiti guest Sassi vedono Sì Allora la zucca La nostra zucchetta Il nostro jack E anche la terra Così in realtà Spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo a un prossimo video E buon Halloween a tutti quanti Ciao Era paureso abbastanza? Era paureso abbastanza? Ciao